Che punto è la percentuale di raccolta differenziata? Siamo a livelli accettabili? Diciamo che più che accettabili abbiamo raggiunto la famosa soglia del 50% di raccolta differenziata, anzi l'abbiamo superata, oggi siamo al 51% di raccolta differenziata. Ovviamente questo non è un traguardo, ma è una prima tappa che ci era obbligata per legge e oggi puntiamo al conseguimento del 65% nei prossimi mesi. Ovviamente questo è dovuto all'incremento che è stato fatto negli ultimi mesi nell'attività che è stata svolta dall'ufficio, dal comune e dalla ditta che si è impegnata sul territorio. A proposito di quantità di rifiuti, sono diminuiti in percentuale la quantità e le tonnellate di rifiuti che vengono raccolte? Sì, le tonnellate complessive di rifiuti sono nettamente diminuite. Questo è frutto sia della raccolta differenziata che viene fatta porta a porta e sia anche del maggior controllo che viene fatto sul territorio e la minore possibilità da parte degli abusivi, chiamiamole così per non usare altri termini, di distribuire e depositare sul territorio in modo indifferenziato e indiscriminato i rifiuti prodotti. Soprattutto da persone che magari non sono residenti a quarta? Certamente perché avendo tolto quelle postazioni che erano su via Campana e nelle zone di transito ora non c'è più la possibilità da parte di coloro che non erano residenti e quindi transitavano per il comune di poter sversare liberamente e impunimente sul territorio. Qual è il prossimo step? Allora, il prossimo step è già partito quello di via Masullo, sulla strada di via Masullo ed il prossimo step sarà Spinelli e Reginelle. In questo momento stanno per arrivare gli ulteriori cassonetti che ci servono per finire di le zone e quindi presumibilmente entro fine mese, inizio mese prossimo, sarà messo a regime tutto il territorio.